Le otto e mezza, tutti in piedi, il presidente, la croce, il professore che ti legge sempre la stessa storia, nello stesso modo, sullo stesso libro, con le stesse parole da quarant'anni di onesta professione, ma le domande non hanno mai avuto una risposta chiara, e la divina commedia è sempre più commedia, al punto che ancora oggi, io non so se Dante era un uomo libero, un fallito, un servo di partito, ma Paolo e Francesca, quelli io me li ricordo bene, perché ti temi, chi non si è mai innamorato, di quella del il primo banco, la più carina, la più cretina, cretino tuo. Compagno di scuola, compagno di niente, ti sei salvato dal fumo nelle barricade Compagno di scuola, compagno di scuola, compagno per niente, ti sei salvato, o sei entrato e poi banca pure tu.